I baesi hanno una trinità laica, San Nicola, la fiera e la squadra di calcio. Lei è entrato nella storia della cultura di Bari. È uno dei luoghi simbolo della città di Bari. Io penso che i luoghi simbolo della città di Bari siano la nostra Basilica di San Nicola, sia il Petruzzelli e sia la Fiera del Levante. Io spero di poter offrire, rilanciare questo ambiente e rioffrire ai baresi, a quelli della mia età, il gusto e la voglia di venire a farsi una giornata, passare una giornata in fiera, ma anche ritornare soprattutto. Gianni, il Presidente Vendolo ha detto che il Presidente ha grandi virtù di intrattenitore. Dagli un voto come intrattenitore. No, 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 infatti gli stavo facendo il complimento. Ma solo perché lui spontaneamente è venuto fuori così, perché non essendo un politico non ha il criterio di quello che hanno i politici o i pseudopolitici. Presidente, lei è popolare, nel senso che vuole il popolo, è anticapitalista. Due aggettivi che hanno smosso la nostra curiosità. Ma io sono sempre stato anticapitalista, perché il capitalismo in se stesso è lo sfruttamento economico del capitale, il che generalmente genera finta ricchezza. Basta vedere la finanza speculativa degli ultimi anni, i derivati, i danni che possono aver fatto. Invece il capitale applicato all'idea, servizio dell'idea, genera buona economia che dura nel tempo. Io vorrei chiedere a Gianni, perché si finiva a fare interesse con me, perché se lo vorrei arruolare, sempre gratis, che non abbiamo una lira, nel gruppo di lavoro che stiamo facendo per fare della Fiera del Levante, una campionaria moderna di forte impatto sul pubblico. Sentiamo la risposta. Ma io sono disposto addirittura alle crociate. E allora? Veramente, tanti auguri. Attenzione, e poi complimenti per i congiuntivi, che non è facile. E non è facile.